analizziamo questo diritto con impugnatura full western e possiamo soffermarci su un particolare che può essere utile al nostro ragazzo partendo dal primo movimento il giocatore inizia a staccare il braccio sinistro dalla racchetta e in questo caso se andiamo a vedere già nella prima parte del gesto non crea la torsione delle spalle questo non gli permetterà poi di trovare nella figura del massimo del carico un controllo del braccio sinistro allora nel massimo del carico il braccio sinistro deve puntare verso il laterale con la ripresa laterale dobbiamo ritrovare il braccio sinistro che punta verso la telecamera e questo gli permetterà poi di entrare sulla palla con più energia e di attraversare meglio la traiettoria